Francesco, un attimino con me, il proprio Fernando, ecco qua Francesco Mosè, canale Fernando Mariani di Youtube, ma anche un giornale locale. Allora Francesco, come mai oggi ti trovi qui alla DEAR? Gli studi Fabrizio Frizzi? Siamo qua perché si parlerà di Olimpiadi, di cose, c'è anche Gustavo Ottoni e andiamo dalla... Ma tu hai mollato tutta la bici? L'hai mollato? Io vado in bici, ma non corro più. Eh lo so, no no, io pensavo, io dicevo se l'avevi mollato, avevo da tutto. No no, adesso, sono andato anche ieri in bici e vado a sciare, faccio di tutto. Fai tutti gli sport possibili, immaginabili. No no no. Che altra cosa fai? Vado in campagna e faccio il vino. Fai il vignaiolo? Se no ci fanno bere solo acqua. Grazie Francesco, grazie, è molto piacere averti conosciuto. Vai. Grazie. 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 Grazie.